Dopo la vittoria della Coppa Lenna alla fine della scorsa stagione, il 7 della Roberto Zeno Posillipo è pronto a scendere in piscina per la stagione 2015-2016 di A1 di pallanuoto. Confermato in panchina Mauro Ochiello, il mister proveniente dalle giovanili, subentrato lo scorso campionato a stagione in corso. In squadra suo figlio Manuel e due nuovi stranieri, i croati Blusie e Kragic. Ascoltiamo il presidente Bruno Cagliazzo. Posillipo c'è, perché dopo la chiusura ottima tecnica o meno, io sono intervenuto in corso d'opera in un momento di crisi proprio del circolo. Aver cambiato l'allenatore, aver portato una ventata nuova di speranza mi ha aiutato molto a raggiungere quel risultato che poi la squadra toccava e quindi sono contentissimo di questo. Oltre al successo della prima squadra c'è stato anche il rinnovato successo dell'Aba-Aba, che sarebbe un campionato mondiale dei ragazzi Under-11 e quindi ci dà una speranza maggiore per il futuro, oltre ai vari successi delle categorie Under-15, Under-17 e Under-20. Quindi la conferma che il Posillipo c'è e continuerà sempre soli, vedi alt.